Ciao a tutti, io sono Davide Panetta e volevo ringraziare pubblicamente Tribe Guitars per aver realizzato il basso dei miei sogni. La mia esperienza con Tribe è stata fantastica, ho contattato Davide per farmi realizzare un SF4 personalizzato, total black con dettagli rossi, come potete vedere dal logo, dai binding alla tastiera e al corpo. È uno strumento eccezionale, Davide mi ha seguito passo passo nella realizzazione di questo basso e da quando ce l'ho è diventato il mio strumento principale, ragazzi non suono nient'altro, è talmente figo, è talmente bello che non riesco veramente più a suonare quasi nient'altro. La consiglio veramente a tutti come azienda perché produce bassi seri, professionali, versatili che non hanno nulla da invidiare a marche molto più blasonate. Quindi grazie ancora Davide e grazie a Tribe Guitars. Ciao!